buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera professionale con la v maiuscola oggi rispondo ad una signora di edimburgo che mi chiede dottore mi spiega la chiaroveggenza cosa posso fare per se scarico l'audio mp3 dcs relativamente la chiaroveggenza la chiaroveggenza ragazzi significa vedere lontano annullare lo spazio del tempo ecco che significa il potere della mente dell'essere umano ogni mente umana aggiungo a questo potere di vedere nel futuro nel tempo nello spazio perché ricordati la mente il subcosciente non ha tempo né età né spazio per cui le persone che hanno usato quest'audio mp3 dcs caroveggenza hanno avuto una visione più limpida naturale di quello che succedeva il giorno dopo il domani in senso lato poi è logico che non tutti siamo uguali di base siamo tutti uguali però ti posso garantire che chi ha seguito alla lettera le istruzioni molto facile la prova di un nonno la prova di un idiota la prova di un pigro ha coronato il suo sogno di caroveggenza che succede succede che alcune persone dalle mie hanno avuto sogni premonitori significa hanno sognato ciò che poi è successo il giorno dopo oppure un giorno stabilito altre persone hanno visto cosa poteva verificarsi in un determinato esame situazione evento innamoramento fortuna lo hanno visto in anticipo altri invece non hanno visto a livello fisico di sogno lucido come la maggior parte ma hanno sentito sensazioni che si sarebbe verificato una certa situazione per cui le a chiaroveggenza ti porta ad aprire il tuo sesto senso il famoso terzo occhio terzo occhio ok ricordati che di base tutti siamo fatti allo stesso modo tutti abbiamo gli stessi poteri mentali e questo dipende molto da come tu utilizzi il potere del subcosciente cioè l'88 per cento della tua mente se sai come fare nella nostra associazione i prologi associati di los angeles baby reels ti posso garantire che questo audio mp3 dcs dal titolo chiaroveggenza è stato utilizzato da molti personaggi famosi e meno famosi con risultati di poco strabilianti perché sono delle suggestioni uniche al mondo suggestioni dcs che hanno quasi un secolo di un antico sapere che provengono direttamente da los angeles baby reels due grandi artisti dell'ipnosi vera professionale con la v maiuscola il professor dottor michelanghel garai e la dottoressa rina brunini miei maestri miei mentori miei associati miei amici per l'eternità per cui solo a te la scelta il dono della chiaroveggenza è dato alle persone a livello naturale molti sono consapevoli già dalla nascita altri a sei anni altri ancora dieci anni eccetera eccetera ma si può solleticare potenziare o rendersene consapevoli questo dipende da ciò che fai il metodo dcs di prosi dcs ti può dare o risvegliare più che dare questo dono di chiaroveggenza solo a te alla scelta fammi tutte le domande del caso visita il mio sito internet www.iprologyassociato.com la mia fanpage su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di ceso del dottor claudio saracino e faccio e condividi con amici e parenti perché può essere quel guido quella molla che gli può cambiare la vita seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzione del dottor claudio saracino un bacio un abbraccio e continuo a farmi domande per chiedere le tue domande i tuoi commenti anche i più banali farò dei video per illustrarti approfondire ciò che su cui sei più curioso curiosa un bacio un abbraccio dal dottor claudio saracino alla prossima